Buonasera ai telespettatori di Rete7, vediamo insieme le notizie per questa sera e per domani. Intanto continuano i lavori di potatura alberi sul Corso Dante e sul Corso Umbria, previsti ralentamenti. Questa sera sino alle ore 20 in Piazza Bodoni, festa religiosa ebraica, accensione delle candele Ciannucca. E poi arriviamo alle notizie di domani, giovedì 6 dicembre alle 9.30, nell'undicesimo anniversario, la commemorazione dei caduti della Thyssen Krupa, il cimitero monumentale. Alle 17 presso la Real Chiesa di San Lorenzo in Piazza Castello, Santa Messa in onore e in ricordo dei decorati di tutte le guerre. Alle 20.45 allo Stadio Olimpico Grande Torino, un incontro di calcio per Coppa Italia Torino su Tirol, con la chiusura di Via Filadelfia tra le 14.30 e le 24.00 circa. e la conseguente deviazione degli autobus delle linee 17 e 17 barato della GTT. Truffe agli anziani, ritorno all'appuntamento Consiglio per la Sicurezza, incontro con la Polizia Municipale, questo domani dalle 16 alle 17 presso la parrocchia Gesù Redentore in Piazza Giovanni XXIII, civico 26, l'ingresso è libero. Domani in via Bertola 40 lavori, lavori anche in via Bard, chiusa tra via Schalland e il civico 38 di via Schalland, chiusura di via Buffa Carlo di Perrero tra via Sostegno e via Pietrocossa per lavori edili. Domani notte, come di consueto, la chiusura dei sottopassi per operazioni di pulizia meccanizzata, 23.30 a 1.30 chiuderà sottopasso Repubblica Portapalazzo, dalle 2.30 alle 4.30 di venerdì mattino chiuderà sottopasso Lanza di Corso Massimo d'Azeglio. Dalle 8.30 alle 18.30 domani deviazioni in grugliasco per le linee 64 e 76. Termino ricordandovi lo sciopero di 4 ore dei mezzi pubblici previsto per venerdì. La rete urbana, suburbana e la metropolitana si fermeranno dalle 18 alle 22.00 per quanto riguarda le linee extraurbane e le ferrovie GTT si fermeranno dalle 17.30 alle 21.30. È tutto, buona serata, buon viaggio e a domani.